già stato chiamato in causa ovviamente il dottor Francesco Zambon già funzionario appunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità la necessità dell'indipendenza nella ricerca scientifica però anche la necessità dell'indipendenza di questi organismi multilaterali che in qualche modo dovrebbero aiutarci a governare questi fenomeni dottor Zambon a lei la parola buongiorno a tutti e grazie dell'invito di essere qui il 7 aprile del 1948 venne approvata la Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS permettetemi di richiamarvi uno dei principi fondamentali della Costituzione la salute di tutte le persone è fondamentale per l'ottenimento della pace e della sicurezza e dipende dalla piena cooperazione degli individui e degli stati per esercitare il suo mandato l'OMS necessita di una cosa su tutte l'essere immune da ogni influenza esterna in questo mio intervento metterò in luce due cose la prova della non indipendenza dell'OMS e del perché questa cosa ci riguarda tutti siamo in una sala significativa dedicata agli eroi dei caduti di Nasseria ci fu un altro eroe nello stesso anno nel 2003 Carlo Urbani fu il primo ad identificare quella che conosciamo oggi come la prima SARS anch'essa causata da un coronavirus il dottor Urbani si trovava in Vietnam morirà di SARS pochi giorni dopo la sua scoperta il 29 marzo del 2003 c'è stata un'anomalia molto grave nel sistema di allerta ai paesi Urbani identificò la SARS in Vietnam in marzo ma l'epidemia era nata in Cina almeno quattro mesi prima perché parlare della SARS del 2003 oggi 18 anni dopo per quattro motivi primo le malattie infettive sono una minaccia oggi quanto lo erano nel passato la SARS del 2003 fu il primo grande allarme del nuovo millennio il mondo si svegliò da un torpore in cui la salute sembrava minacciata prevalentemente da malattie cronico-degenerative le malattie infettive non erano più un problema qualcuno pensava ma gli scettici dovettero presto ricredersi ci fu la pandemia del 2009 la suina la MERS del 2013 l'Ebola del 2014 Zika nel 2016 per citarne alcune secondo il regolamento sanitario internazionale ovvero lo strumento giuridico internazionale disegnato dall'OMS che si prefigge di garantire la massima sicurezza contro la diffusione delle malattie emesso a punto proprio dopo la SARS del 2003 ha fallito numerose linee guida dell'OMS sono state emanate contrariamente a quanto detto in sedi istituzionali nel 2009 2011 2013 2017 e 2018 l'Italia non ne ha tenuto conto si è detto che la situazione epidemiologica non era cambiata o che le linee guida dell'OMS non sono vincolanti certo non sono vincolanti allora perché farle perché gli stati vi si adeguano il piano pandemico anti-influenzale dell'Italia ovvero quel piano giusto per non fare confusione che l'OMS si è chiesto agli stati di attivare il primo di gennaio del 2020 mai si è parlato di piano anti-covid era del 2006 sono state fatte delle stime rapporto Lunelli su cosa sarebbe potuto succedere se il piano pandemico fosse stato aggiornato sono solo degli scenari ma significativi e non possono essere ignorati secondo questi scenari nella prima ondata che ha falciato la vita di 35.000 persone si sarebbero potuti evitare fino a 10.000 morti un terzo del totale terzo nella SARS del 2003 nulla fu detto dalla Cina per quattro mesi oggi sappiamo quanto anche un solo giorno agli inizi di un'epidemia sia fondamentale per il contenimento della stessa il direttore generale dell'OMS il dottor Tedros Ghebreyesus mentre l'esercito cinese presidiava le strade dell'enorme provincia dell'Ubei si premurava nel complimentarsi con Xi Jinping sulla trasparenza e tempestività del passaggio di informazioni l'OMS dichiarò che c'era evidenza di una possibile trasmissione da uomo a uomo il 21 gennaio Taiwan lanciò lo stesso allarme 20 giorni prima proprio all'OMS ma l'OMS non ne tenne conto perché Taiwan certo abitata da esseri umani che l'OMS deve per costituzione tutelare non fa parte dei suoi stati membri quarto la ricerca sul coronavirus come certamente possono spiegare ben più illustri colleghi dopo la SARS del 2003 iniziò una fremente ricerca sui coronavirus sui coronavirus lavorò moltissimo una donna cinese Xi Zengli la vice direttrice dell'istituto di virologia di Wuhan tanto da essere chiamata la donna dei pipistrelli tra le proteste della comunità scientifica la donna dei pipistrelli e collaboratori produssero anche delle chimere come abbiamo sentito a partenza dei coronavirus con dei guadagni di funzione in grado di infettare l'uomo aveva molti studiosi su cui poteva contare nel suo entourage tra cui Peter Dazak chi è Peter Dazak uno zoologo con grande esperienza di coronavirus così grande questa esperienza che venne chiamato come esperto indipendente dell'OMS nella commissione per investigare l'origine del virus condotta nel gennaio febbraio di quest'anno era Dazak indipendente nella maniera più assoluta no non lo era Dazak è uno dei finanziatori dell'istituto di virologia di Wuhan e coautore di diversi lavori con la donna di pipistrelli pensate la commissione ingaggiata da tutti gli stati del mondo attraverso l'OMS che aveva come scopo capire da dove fosse originata questa catastrofica pandemia era capeggiata da una persona intrisa di conflitti di interesse Dazak sapeva esattamente cosa era bene far vedere di quel laboratorio e quella porta invece era meglio lasciare chiusa lo scandalo venne ripreso su diverse media chi ci rappresenta all'OMS i ministri della salute di tutti i paesi dovrebbero indignarsi poiché una cosa così grave da sola può essere in grado di destabilizzare l'OMS l'organizzazione che deve tutelare la salute del mondo cosa successe? niente facciamo un salto di 17 anni il 19 marzo del 2020 lo studioso israeliano Harari scrive sul Financial Times isolamento nazionalistico e solidarietà globale questo è il dibattito che dobbiamo affrontare per combattere il virus dobbiamo condividere l'informazione tra nazioni prosegue c'è un grande vantaggio che gli esseri umani hanno rispetto al virus gli umani possono parlarsi quello che un medico italiano scopre a Milano una mattina può salvare vite a Teheran la stessa sera l'Italia nella sua lotta al Covid si è trovata in una situazione di enorme svantaggio la solidarietà globale in termini di scambio di informazioni di cui parla Harari non c'è stata e l'organismo che doveva garantirla l'OMS non è riuscito a farlo ma l'Italia è un paese generoso proprio con lo spirito dell'articolo di Harari un team di 20 persone da me guidato lavorava con tutte le autorizzazioni del caso allacremente per la stesura di un testo che descrivesse cosa stava succedendo in Italia in quei primi terribili mesi di marzo aprile 2020 dovevamo cercare di dare agli altri paesi del mondo quello che noi non avevamo avuto il tempo la pubblicazione dell'OMS sull'Italia era indipendente quindi non passata al vaglio di un ministero che avrebbe potuto scegliere cosa dire e che cosa non dire il rapporto An Unprecedented Challenge Italy's First Response to Covid-19 fu reso pubblico il 13 maggio del 2020 ma la sua esistenza fu breve meno di 20 ore il 14 maggio fu ritirato per una carazione di carattere esclusivamente politica sulla cronologia della pandemia in Cina dopo poche ore il rapporto era pronto per essere rimesso online a beneficio di tutti i paesi del mondo i paesi che in quelle 20 ore erano riusciti a scaricarlo lo avevano apprettato tantissimo e dicevano era proprio quello che ci serviva in questo momento ma scomparve meglio fu fatto scomparire oggi sappiamo per intervento di molteplici mani il rapporto diceva che il piano pandemico italiano era obsoleto di 15 anni ma c'erano anche molti altri elementi critici era evidentemente un rapporto che dava fastidio onorevoli eccellenze quali sono i fatti in questo glorioso edificio il 28 aprile del 2021 nel discorso del ministro Speranza in relazione alla mozione di sfiducia disse su questo rapporto testualmente non c'è nessuno dei protagonisti di questa vicenda che affermi il contrario le scelte relative al dossier sono autonome dell'OMS e ancora la stessa OMS Europa ha dichiarato che in nessun momento il governo italiano ha chiesto all'OMS di rimuovere il documento una posizione chiara che pone fine a qualsiasi speculazione qualcosa però non torna faccio due precisazioni i protagonisti di questa vicenda per usare le parole del ministro Speranza includono anche il suo coordinatore il sottoscritto che ha sempre detto che il documento non è stato ritirato spontaneamente dall'OMS secondo quali sono le speculazioni a cui si fa riferimento Ranieri Guerra special advisor dell'OMS in supporto al ministro Speranza oggi indagato per false dichiarazioni al pubblico ministero in data 14 maggio 2020 neanche tre ore dopo il ritiro del rapporto scriveva al dottor Brusaferro presidente dell'Istituto Superiore di Sanità via Whatsapp i seguenti messaggi sono stato brutale con gli scemi del documento di Venezia ho mandato scuse profuse al ministro alla fine sono andato su Tedros e ho fatto ritirare il documento spero anche di far cadere un paio di incorreggibili teste Brusaferro risponde mi pare che sia proprio una situazione critica guerra di nuovo stanno mettendo a rischio una discussione molto seria che è stata impostata anche in prospettiva di G20 e di una relazione speciale tra Tedros e l'Italia ancora guerra dovremmo anche vedere cosa fare con i miei scemi di Venezia come sai ho fatto ritirare quel maledetto rapporto vedo Zaccardi capo di gabinetto di Speranza alle 19 vuoi che inizi a parlargli dell'ipotesi di revisione del rapporto dei Somarelli di Venezia e ancora il capo di gabinetto Zaccardi dice di vedere se riusciamo a farlo cadere nel nulla se entro lunedì nessuno ne parla vuole farlo morire ritiro avvenuto per decisione spontanea dell'OMS nessuna interferenza del governo italiano OMS indipendente e trasparente lo scandalo fu tale da guadagnare le pagine dei principali giornali del mondo The Guardian The Figaro Financial Times Washington Post l'attrattività dello scandalo per la stampa internazionale sta tutta in una cosa sola questo episodio gravissimo è la prova che l'OMS non è indipendente se l'OMS non può evidenziare criticità ai punti di forza della risposta italiana come si può anche solo ipotizzare che qualcosa venga detto sull'origine del virus in Cina mentre le polemiche infuriavano io rassegnai le mie dimissioni lo feci per una questione di principio poiché l'OMS stava tradendo i suoi valori fondanti ero certo poi che sarebbe stata fatta chiarezza in Italia le mie dimissioni invece furono seguite da un assordante silenzio istituzionale rotto solo dal presidente della regione Veneto e dal presidente del consiglio regionale Veneto che mi espressero la loro solidarietà da Roma e dal governo centrale nessuno ha ritenuto rilevante ascoltare una fonte non appartenente al sistema onorevoli eccellenze siamo di fronte ad una scelta possiamo ammettere di aver fatto degli sbagli correggere i nostri errori e ripartire meglio di prima questo ci consenterà di essere pronte alla prossima pandemia e soprattutto ci consentirà di salvare vite l'alternativa è una soltanto affondare con le proprie responsabilità grazie grazie mille grazie mille davvero al professor Zambon per il suo credo importantissimo contributo non solo oggi ma anche appunto per quanto fatto in questo ultimo anno grazie a tutti